Allora oggi è il 22 maggio e stiamo andando a una festa fantastica al Gilda Quindi avete già il compleanno di Tasso e di Fabio Fabio non lo sa ovviamente no? Quindi adesso ci sono io a fare le riprese Invece vi vedo queste cose le fa lui e volevamo fargli appunto una sorpresa Sono qui con la mia amica Fabi Abbiamo appena attraversato un paese chiamato Le Pugne Siamo in mezz'ora e mezza e siamo già in ritardo di mezz'ora Allora siamo su M2O Quindi sulla radio di Fabio Vedi Fabio? Tu dici che io non ascolto mai, non guardo mai le cose che fai tu che non mi interessa Questa qua come vedi? Sono su M2O Cioè io stasera sono stra felice Allora via da Stancia e Fabio Ci vediamo al locale Ciao a tutti! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti